Buonasera, buonasera, benvenuti a Top Secret, ci occupiamo delle eccellenze dell'imprenditoria italiana e oggi un argomento è molto interessante, parliamo della vendita di veicoli ricreazionali, lo facciamo con Luca Barassi, brand manager del centro Caravans Barassi, un'azienda di Monza, qui vicino tra l'altro, benvenuto. Ti ringrazio, grazie per averci invitato e un saluto a tutti. Grazie, allora noi cominciamo normalmente facendo un po' di storia dell'azienda, ce la vuole raccontare? Sì, la storia nasce nel 1978, l'azienda parte dalla voglia di libertà, io ero piccolino e quando vi dico quella frase allora non la capì, ero un ragazzino, dalla voglia di libertà di che cosa? Con gli anni devo dire che la voglia di libertà invece dentro di me fa capire molte più cose. Ma è un'azienda familiare? È un'azienda familiare e pensiamo a oggi che voglia di libertà c'è. Certo. Siamo tornati ora nel 78, immaginiamoci come eravamo nel 78, guardiamoci oggi e oggi è una frase super attuale, c'è la voglia di libertà. Certo. E i Caravans garantiscono una certa libertà. Sì, il mondo ricreazionale negli anni è cambiato, io ho delle foto aziendali del 78, affascinanti e anche un po' malinconiche, dove si aveva questa azienda molto vicino a questi studi, piena di Caravan. Oggi la Caravan si è trasformata in camper nel 2000, anche prima del 2000, 95-90 nel camper e poi ora è diventato anche molto van. Il van rappresenta la voglia di libertà insieme al camper con dimensioni differenti, il Caravan ha dimensioni più contenuti, sia di larghezza che di lunghezza che di altezza, però ha sempre un unico scopo, quello che nel 78 era lo slogan. La libertà. Bravo Corrado. Senta, cosa fate esattamente? Qual è il core business dell'azienda? Il nostro core business in realtà è la vendita, la vendita del veicolo fatta con cura, fatta con attenzione, con rispetto verso il cliente e tutto ciò che circonda il mondo camper. Quindi la natura, tutto quello che è tutto appunto l'ecosistema che gira intorno al mondo. Cerchiamo sempre, parlo di natura perché cerchiamo sempre di cercare di avvicinare il mondo del plein air a quello che realmente è il plein air, quindi all'aria aperta, al turismo che sia sostenibile. È tutto ciò che è per la nostra mente una libertà che ci dà del bene, del benessere. Beh, bellissimo. Sono molto affascinato da questo discorso, visto che la città, a mio avviso, è diventata abbastanza invivibile. Il fatto di avere questo sfogo è bellissimo. Sì, diciamo che io sono sempre cresciuto nei camper. Mi ricordo quando ero piccolino andavo in bicicletta a tre camper. Oggi sarebbe impensabile andare in bicicletta a tre camper, anche perché allora, quando si parla del passato, secondo me, una generazione precedente a noi era molto più unita. Oggi forse il benessere ci ha un po' rovinato sotto questo punto di vista. Prima si faceva insieme tutto per stare meglio. Oggi si è distanti e quindi questo ha portato un'inversione di marcia in alcune scelte che poi si fanno. Il camper aiuta per chi vive nelle città, ma per chi vive comunque sotto un burnout continuo, libera molto la mente. Senta, ci sono altre aziende, immagino, che sanno quel lavoro. Ecco, quali sono invece i punti di forza della sua azienda? Allora, le aziende, i competitor sono tanti. La difficoltà che si ha quando si hanno tanti competitor è che puoi essere uno di loro o differenziarti. Io non ho mai voluto essere una concessionaria uguale. Ho sempre voluto puntare su qualcosa di più, dal concetto dell'azienda Barazzi arrivando al concetto del mondo del camper. Da sempre il camper è visto come una fonte di risparmio. Compro il camper per risparmiare. Compro il camper perché costa tanto l'albergo. E questo secondo me è sbagliato. Compro il camper perché voglio comprare il camper, la caravan, il van, perché voglio stare nell'aria aperta, voglio stare al contatto con la natura. Io ho clienti, ragazzi, giovani che hanno iniziato a lavorare da poco, ho imprenditori che sono consolidati nel mondo di multinazionali, chiamano, hanno il piacere, entrambi persone differenti, hanno l'unico piacere magari di stare in t-shirts e ciabatta e grigliare con la famiglia mentre i figli scorrazzano come. scorrazzavo io in bicicletta nell'82-84, invece loro nel campeggio e io allora nella concessionaria. Ebbè, il quadro è bellissimo. Il quadro è bellissimo. Ci sono delle limitazioni nei camper? Possono costeggiare? Sì, diciamo che la limitazione è il classico cartello e le altezze, in realtà la limitazione è proprio l'estetica del camper che ha, del long gas, per quello che anche il van ha avuto questo grande successo. Con il van sei più libero, con il van puoi parcheggiare un po' più dove vuoi e poi il mondo è diventato più la portata di mano. L'Europa specialmente, io alcune volte ripenso, sono un malinconico, un malinconico d'amore, di cose belle. Guardo le foto e mi dico, ma mio papà come faceva a partire? Con queste mappe, senza aria condizionata. Senza il navigatore. Senza il navigatore, doveva aprire e fare. E quando ero piccolo io odio i ricordi. Oggi ci sono delle applicazioni nel mondo camper che sono la cosa più comoda del mondo. Io imposto dove voglio andare, ho le intertappe, posso andare negli agricampeggi al contatto con gli animali che la mattina quasi mi vengono a dare il buongiorno. Insomma, Corrado è veramente molto più semplice. Sì, mi ha fatto venire una voglia. Ma guarda, io parto fra pochi giorni, quindi... Ah sì? Sì. In Italia, io ci tengo a precisare che in Italia il mondo camper è veramente visto, secondo me, in maniera sbagliata. In Italia ci sono delle eccellenze che sono molto importanti e sono nel camper, come nei caravan, come nei campeggi e come nelle aree di sosta. Ci sono dei campeggi che sono meglio, veramente lo dico, di un classico resort. Certo. Poi io penso che comunque ci devi essere anche portato perché comunque sei all'interno di un campeggio che è un 5 stelle, però sei sempre all'interno di un campeggio. Quindi non hai magari la struttura dell'hotel fisicamente, però... Ma dentro... Io sono stato recentemente in un camping che dietro c'erano 7 ristoranti, c'erano due parchi tematici acquatici e un parco tematico, una sorta di... Sono attrezzatissimi. Sono super attrezzati. Sono eccellenze italiane. In Italia va più, come dire, il campeggio di qualità, anche perché è molto amato dall'estero. Il cliente estero, tendenzialmente il tedesco e l'olandese, su tutti, frequentano molto la nostra costa. Un dato buffo in Italia è che alla quarta posizione come visite noi troviamo Cavallino Treporti. Io penso che se fermiamo 100 ragazzi... Cavallino è Jesolo. Bravissimo. Certo. Che non è neanche Jesolo, è Cavallino. Cavallino, sì. Cioè se noi fermiamo 100 ragazzi qua fuori, chiediamo dove si trova Cavallino Treporti, giustamente, magari anche dico, non lo sanno. Cavallino è quarta posizione in Italia. Come proprio... Come visite di persone. Ed è un litorale. Adesso ho fatto volentieri pubblicità a Cavallino perché è veramente un qualcosa di stretto. Va bene, certo. Ci mancherebbe altro. Tra l'altro io, grazie al lavoro che faccio, sono andato su dei camper, non so che cos'erano esattamente, ma erano delle case arredate. Il camper ha tutto. Il camper ha tutto. Il camper è una casa con le ruote e la casa è amica tua. Quindi tu la puoi personalizzare, la devi amare. Il camper è anche un ottimo hobby per quelle persone che magari la domenica, nelle mezze stagioni, che non lo vogliono utilizzare, possono comunque andare nel rimessaggio o sotto casa, se hanno la fortuna di poterlo avere sotto casa, e fare quei piccoli lavori di bricolage che fanno sempre l'orgoglio dei camperisti. Quando me lo vengono poi a riportare, che si dice fare la permuta, loro starebbero ore e ore a parlarmi dei loro lavori, dei loro viaggi. Ed è bello. Io ho fatto una televisione che si chiamava Sabato al Circo, con Moira Orfei, e sono stato sul suo... Ah sì? Più che un camper, era un... Era un... Allora diciamo... Non so quanti metri quadrati era. Diciamo che il mondo camper si differenzia in vari effettivamente segmenti e layout. I segmenti sono il motorhome, che era appunto... Ah, il motorhome. Esatto. Il semi integrale, che sono quelli più bassi. Il mansardato, che per anni ha scritto la storia del mercato italiano. E questi sono i tre principali. Oggi in Italia un dato importante è che il semi integrale, che si dice con letto abasculante, quindi dei letti posteriori, è un letto che scende nella parte anteriore elettrica, ricopre più o meno il 50% del mercato. e un 35-40%, forse anche qualcosa in più, è il van. Quindi capisci, Corrado, che rimane poco per gli altri. Il mansardato, dobbiamo domandarci come mai sia sparito. La famiglia non è sparita. È in diminuzione, magari il numero del nucleo familiare. Però è cambiato il cliente. Oggi è lì che volevo arrivare. Oggi il cliente è diverso. Oggi il cliente è un cliente giovane, dinamico, informato. Questo non vuol dire che il vecchio cliente non sia più presente. Ma anche il vecchio cliente oggi è più giovane. Oggi l'uomo che si avvicina a me, che ha i 60-65 anni, è una persona totalmente diversa rispetto a quando io avevo iniziato questo settore. Certo. È un uomo brillante, giovane. Non che prima non lo fosse, ma oggi la prospettiva che si ha è diversa. e quindi prima si prendeva il mansardatone e poi voglio dire anche una cosa brutta, perché si andava tutti insieme e se la famiglia era grande, oggi si prende il semi integrale o il van perché vado io. Se devo dire una cosa brutta, che poi è anche bella sotto un certo punto di vista, prima si prendeva il mansardatone, corrado, perché siamo in due, però una volta all'anno viene la nipote, l'amica della nipote. allora oggi si è un pizzico più egoisti e allora si pensa un po'. Da una parte è anche giusto. È già finito il tempo, è tutto così interessante, mi ha fatto venire una voglia di... Vabbè. Posso dire l'ultimissima cosa? Sì, perché poi c'è il top secret. Sì, l'ultimissima è quella che don consiglio ai miei colleghi, quella di lavorare sul brand positioning delle proprie aziende, perché possano diventare loro il brand principale. Noi abbiamo brand che lavorano per la Barassi, la Centro Caravans Barassi. Deve essere la Barassi il protagonista, perché siamo noi, come i colleghi automotive, a rendere questo settore speciale. I brand hanno un ruolo importante, però noi dobbiamo occuparci di tutto quello che viene intorno, dell'assistenza e fornire contenuti importanti ai clienti. Lavorate sul brand positioning dell'azienda. Io non vendo brand positioning, ma è un rispetto verso chi acquista camper da noi. Perfetto. Grazie, grazie per essere stato con noi. Grazie a te e a tutti quelli che hanno sentito. Il top secret dell'azienda è venuto fuori durante l'intervista. È questa passione che ci hai comunicato. Grazie. Grazie di tutto. Grazie a te Grazie a tutti.